Eccoci a un nuovo attivamento con i dialoghi su cosa significa essere imprese di beneficio comune e questi dialoghi sono organizzati dal Complexity Institute in collaborazione con Asso Benefit che è l'associazione italiana delle società. Sono con me Marinela De Simone che è Presidente del Complexity Institute e membro del direttivo di Asso Benefit e Sara Cirone che è amministratore della Sara Cirone Group Società Benefit. Buonasera Sara, buonasera Marinela. Allora, io intanto chiarirei qual è la finalità di questi dialoghi e di questi incontri. La finalità è quella di dare un supporto, un aiuto alle persone che poi vedranno questi brevi video affinché siano maggiormente consapevoli di tutti quelli che sono gli impegni e di tutte quelle che sono le possibilità offerte dall'essere impresa di beneficio comune, sia sotto il profilo istituzionale, perché molto spesso parliamo di quella che è la legislazione, le possibilità offerte a livello istituzionale, sia a livello economico-aziendale che a livello, come dire, spicciolo, di comportamenti che devono essere assunti all'interno delle organizzazioni. Le domande, e qui mi trovo subito al tema, le domande che più vengono poste sono quelle relative a quali dovrebbero essere i fattori innovativi che si dovrebbero sviluppare all'interno del beneficio, all'interno delle imprese del beneficio comune, sia sotto il profilo che organizzativo, appunto, che sotto il profilo fiscale o amministrativo contabile. Allora, io prima di iniziare, di entrare in argomento, direi a Sara se per favore ci racconta un po' del suo gruppo, ci racconta com'è nato e di che cosa vi occupate e poi man mano svolgeremo insieme il dialogo. Ok? Prego Sara. Grazie, grazie. Vi ringrazio tantissimo di questo invito. È un piacere per me parlare con voi, dialogare su questi temi. Spero di poter dare un piccolo contributo a questo concetto di società benefit che sta trovando in questo momento già da un po' una certa espansione e noi vogliamo contribuire a questo. E con questo ho già introdotto un po' il tema. Un paio d'anni fa ho deciso di, poco più, ho deciso di aprire una società benefit, aspettavo la legge da tanto, appena è uscita la legge ovviamente sono entrata nel merito, ma anche prima che entrasse la legge ero lì che insomma sapevo che era lo studio e quindi la stavo aspettando e appena è uscita ho deciso di progettare, la mia fuoriuscita dall'impresa dove ero amministratore delegato e di aprire una società benefit. Il tempo di organizzarmi e ho aperto questa società, non sapevamo come chiamarla, la volevamo chiamare con qualcosa, una parola che ricordasse territorio. Abbiamo fatto delle ricerche, i nomi erano tutti impegnati, alla fine io ero il manager di riferimento di tutto il gruppo che ho fatto, facevo, in quel momento stavo ancora facendo l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore risorse umane e quindi abbiamo deciso di connotarla in questo modo proprio per dare una riconoscibilità sul tema del management che in qualche modo io nel gruppo potevo rappresentare perché anche gli altri sono manager. E niente, è iniziata questa avventura, io sono fondatrice, in realtà l'amministratore unico è Andrea Ragazzini che è cofondatore insieme a me di questa avventura e che cosa fa? Fa consulenza strategica per la sostenibilità, ma nello specifico, perché detto così è un po' molto ampio e abbastanza generico, nello specifico noi ci occupiamo di rendicontazione non finanziaria, rendicontazione non finanziaria e valutazione d'impatto e nello specifico siamo molto, molto orientati ed esperti di integrated reporting, quindi framework dell'IRC. Su questo strumento siamo già alla seconda vittoria dell'Oscar di bilancio, devo dire insomma il nostro piccolo, visto che siamo piccoli e neonati e start up, ne siamo molto contenti perché su quello insomma abbiamo fatto proprio una vera punta di focalizzazione, di attenzione, di ricerca, di studio e approfondimento. All'inizio lo abbiamo vinto con una PMI, quest'anno con un comune, il primo comune d'Italia ed Europa a realizzare questo tipo di rendicontazione non finanziaria. E questo direi che è la prima cosa in assoluto a cui teniamo tanto, perché il rapporto con il pubblico ci interessa, il rapporto con le amministrazioni e con i territori diciamo che è al primo posto anche nel nostro beneficio comune. Poi ci occupiamo di progetti proprio strategici di territorio, quindi di mettere insieme imprenditori e soggetti che lavorano sul territorio, che sia un'associazione, che sia l'amministrazione pubblica stessa, al fine di migliorare proprio la qualità della vita dei territori attraverso la partecipazione attiva e la creazione di una mentalità sugli impatti, sulla sostenibilità, ma soprattutto sulla misurazione e valutazione degli impatti. Ecco, mi fermerei qui, però grosso modo insomma ho introdotto chi siamo. Vai Mari. Mi fai subito partire, ok. No, non ho presentato, però è bene che ti presenti perché coloro i quali ci stanno ascoltando diranno ma chi è questa marinella? No, no, dai, mai mi conoscono, non c'è bisogno che mi presento. Però, Sara, hai iniziato col botto, nel senso che hai messo dentro tantissime cose tutte molto importanti, no? Tutte cose molto molto interessanti e molto grandi se vuoi. Allora, mi piacerebbe pian piano riuscirli a portare a terra, no? Capire pian piano specificatamente di cosa si tratta, cosa significa. Per esempio, allora, partiamo ovviamente perché, diciamo, noi siamo, anche noi, del mondo delle società benefit, come ha detto Dario all'inizio, quindi anche noi come Complexity Institute li seguiamo. Da quando è iniziata abbiamo fatto il primo convegno quando è uscita la legge, dopo tre mesi a marzo abbiamo fatto il primo convegno a Torino, invitando del Barba e invitando insomma un po' tutti i, diciamo, i protagonisti di questa piccola e grande rivoluzione che sono le società benefit, le bicorpe, poi anche quello che è il cambiamento che si sta portando anche nel terzo settore. Quindi, però mi piacerebbe portarlo a terra per chi queste cose invece le conosce poco. Allora, voi fate quindi, diciamo, due cose che ho capito molto importanti. Da un lato collaborate con le aziende e anche con la parte invece non, quindi con la parte pubblica, per quella che è la rendicontazione del territorio non finanziaria e la valutazione di impatto. Dall'altra, che ovviamente non sono due cose sconnesse, ma hanno tanti punti in comune, vi occupate dei piani strategici per migliorare la qualità dei territori. Quindi queste due cose sono ovviamente interdipendenti. Allora, la prima domanda è questa. Ci può aiutare anche a capire meglio che cos'è e perché si fa una valutazione di impatto, prima cosa. E secondo, come sta nascendo questa domanda? Cioè, come sta nascendo e come sta cambiando? Visto che voi siete, diciamo, state seguendo il processo un po' dall'inizio. Sono pochi anni, ma ovviamente siete proprio su questo aspetto così importante. Come vedete che sta cambiando la domanda rispetto alla valutazione di impatto. Poi dopo mi piacerebbe scoprire l'altro lato, quello sul territorio. Però intanto mi piacerebbe esplorare questa parte. Sull'impresa o sul pubblico? Come vuoi tu. Cioè, puoi darci anche entrambi gli aspetti, se riesci ad essere abbastanza sintetico. Allora, in realtà io sono partita tanto tempo fa, prima che si parlasse di valutazione di impatto. E quindi posso rendere una testimonianza operativa di impresa del perché un direttore generale, un amministratore delegato si avvicina a questo tema. Io mi sono avvicinata a questo tema, venivo già dalle risorse umane, ma mi ero spostata sulla strategia, perché avevo bisogno in azienda, nonostante fosse una PMI, ma sai, l'Italia è fatta per il 95% di PMI e poi PMI bisogna capire che cosa vuol dire, perché una cosa è 10 milioni, una cosa è 80 milioni, ma tutte e due, diciamo, sono nel range PMI se vogliamo. Avevo la necessità piuttosto stringente, infatti ho iniziato già nei primi anni 2000 e poi l'approfondimento vero e proprio è venuto tra il 2006 e il 2008, di avere delle KPI, degli indicatori che non fossero solo economici finanziari. Tra l'altro io sono un umanista di origine, poi ovvio ho dovuto studiare, ho studiato altro, però di origine sono un umanista e quindi sentivo un'esigenza proprio congenita, forte, di parlare anche di altri capitali che non fossero solo quelli economici finanziari, perché nel leggere il bilancio e nel parlare di questi asset finanziari non ritrovavo il valore e quindi in maniera intuitiva negli anni già 2008 iniziavo a far fare delle tesi di approfondimento sulla balance core card come amministratore delegato dell'impresa che guidavo. E lì, insomma, ho approfondito, insieme ad altri, col famoso group, ho approfondito a quel tempo la balance core card di Kaplan e Norton, che è stata la base, diciamo, poi successivamente, io non lo sapevo, ma niente viene a caso nella vita, è stata poi la base su cui invece io ho approfondito i miei studi sull'integrate reporting, perché in realtà io sono partita dalla balance core card, perché in realtà la balance core card rendendo una visione sistemica di quattro prospettive, che sono appunto quella dei clienti, quella della relazione, dell'organizzazione, dei capitali intellettuali, oltre a quella economico-finanziaria del mercato, già introduce moltissimo questo tema, anche se il tema lì era soprattutto sulla performance più che gli impatti. Però per valutare gli impatti devo imparare anche questo aspetto, perché altrimenti mi manca qualcosa l'impresa, perché l'impatto sì, però dobbiamo anche salvaguardare la sostenibilità a tutto tondo. E quindi da lì poi sono partiti una serie di approfondimenti, di applicazione proprio pratica in una PMI, che mi hanno portato nel 2013, attraverso il network italiano di business reporting, a sperimentare il neonascente framework dell'IRC. Io sono stata appunto tra i vari soggetti che erano nella sperimentazione, nello studio di questo framework. Fatto sta che due anni dopo l'ho implementato dentro l'impresa e ho fatto la prima rendicotazione non finanziaria, il primo integrated reporting, che ha portato con sé anche, come sapete, l'integrated reporting anche una parte di valutazione di impatto, di outcome. Gli outcome nell'integrated reporting non sono l'argomento principale, perché l'argomento principale nell'integrated reporting sono i sei capitali e quindi questa attenzione, questa lente di ingrandimento su quella che è la creazione di valore sul valore multicapitale, i sei capitali che animano questo framework. Senti, posso scusami che ti interrompo? No, prego. Una cosa molto interessante rispetto a quello che hai detto, così lo rendiamo anche un po' più dinamico, una cosa sulla quale si stanno occupando molto. Pochi giorni fa mi è capitato di fare, insieme a Mauro del Barba, un breve intervento in un corso di laurea di un'università fisica secondo di Napoli e quello che mi hanno chiesto molti ragazzi è, dicono, ma questo che significa? Significa che si stanno costruendo delle nuove competenze? Cioè in relazione a quello che mi stai dicendo tu, per esempio, è quello che adesso si comincia a mettere insieme, una sostenibilità classica economico-finanziale, no? Pensa a quanti problemi ha l'innovazione sociale sotto il punto di vista, con una sostenibilità legata ai territori o all'esterno, il classico impatto. La domanda che ti faccio, perché sono curioso, ma credi che questo stia generando in voi delle competenze specifiche, delle competenze che siano ripetibili? E secondo te, se sono ripetibili, qual è il suggerimento che noi possiamo dare a chi ci ascolta su le nuove competenze che servono, ad esempio, per fare un lavoro all'interno di una società benefit? Forse prima, che non ci stanno ancora, o no? O pensi che invece lo possa fare chiunque con le competenze che vengono normalmente costruite oggi? Ma io apprezzo tantissimo la domanda, perché mi dà lo spunto di dire che io, vabbè, ho fatto un percorso manageriale, ho avuto anche un certo, sono stata avvantaggiata perché dovevo farlo anche per lavoro. Ma chi non si trova in questa condizione di poter seguire tutto un iter, no? Di una decina d'anni di studio sull'applicazione pratica poi di questo, di altri modelli, secondo me può comunque approfondire questa materia e secondo me non richiede competenze specifiche nel senso che ci vuole per forza l'aver fatto una cosa o l'aver fatto, cioè non è che perché non sei stato manager non puoi approfondire questi temi, non so se mi spiego. Secondo me invece sono temi che sono non alla portata di tutti, perché è ovvio se non fai quel mestiere lì, non sei mai entrato dentro a un contesto organizzato, è ovvio. Però secondo me invece è semplicemente una questione di diffusione della conoscenza e di nuovi programmi di conoscenza su questo aspetto. E non è un club esclusivo dove solo noi sappiamo come si fa una valutazione di impatto, come si applica questa cosa nel concreto dentro un'azienda. Io ho visto che si è speso tantissimo, nella mia esperienza lavorativa si è spesa tantissime risorse e si spendono tante risorse per gli approfondimenti di tipo finanziario e c'è stato uno sbilanciamento nel corso degli anni sulla categoria di chi si occupava del finanziario a svantaggio di chi si occupava del non finanziario, perché quando parlo di non finanziario parlo anche di tutta una serie di professioni che gestiscono i capitali intangibili. C'è stato uno sbilanciamento secondo me nella gestione d'impresa, nel senso che vedevo che erano molto più quotati determinati tipi di categorie professionali e approfondimenti sulla parte contabile finanziaria che non questi aspetti che vanno invece a toccare gli intangibili. Poi insomma negli ultimi 10-15 anni la cosa è cambiata parecchio e quindi si è cominciato a lavorare moltissimo sui capitali intangibili, sulla gestione risorse umane, ma non solo quella, più in generale su questi aspetti non finanziari e l'impatto, le relazioni causa-effetto che questi aspetti hanno poi sul trend generale dell'azienda. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda, ma... No, ma la mia era una curiosità legata al fatto che si potrebbero veramente, si potrebbe ipotizzare la nascita di una nuova figura professionale. Sì, 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 assolutamente quello che tentavo di dire. Questo secondo me sarebbe veramente interessante, una figura professionale. Io mi ponevo e poi dopo passo la parola, mi chiedevo quanto noi siamo abituati a considerare qualunque tipo di processo aziendale nel suo profilo impatto piuttosto che nel suo profilo normale misurazione di performance. E il concetto di performance cambia, perché se vai a vedere gli studi, qui ne posso parlare, il concetto di performance è legato decisamente al tangibile, ma assolutamente. E quindi questo potrebbe essere, diciamo, quello che tu mi hai detto mi conferma la possibilità a molti di accederci, ma comunque una figura che potrebbe avere una sua dignità nuova all'interno di questo. Ok, ok, grazie. Quello che io volevo dire è che ci si può accedere. Ovviamente serve un po' di approfondimento, insomma, ecco, certamente. Bene, bene. Allora, quando ritorneremo in presenza, ti creerai uno spazietto per venire all'università e fare magari, per esempio, un seminario su quella che potrebbe essere una nuova ipotesi di figura professionale e poi tu in particolare... Io la vedo già questa figura professionale. Ok, ok. Va bene, grazie. La vedo perché poi io lo faccio, insomma, in qualche modo. Sono un po' precursore in questo. Mari, prego. Sì, allora io ritorno alla domanda, alla seconda parte della domanda di prima con Sara, cioè qual è in questo caso la domanda che si sta generando rispetto specificatamente alla valutazione di impatto? E come sta cambiando? Come tu che, diciamo, che stai seguendo questo aspetto, come vedi che sta cambiando? Per esempio, mi incuriosisce molto che ci siano anche degli organismi pubblici come i comuni che possono essere interessati a farlo. Quindi, volevo sapere qualcosa di più su questo. Certo. Allora, io sono partita dal privato, dall'impresa, dall'impresa e adesso ci stiamo orientando sul pubblico, ma c'è una motivazione. C'è una motivazione legata all'esperienza poi pratica manageriale che ho fatto, che mi ha fatto intuire che bisognava andare verso il pubblico. Perché quando ero amministratore delegato, gestivo più di 80 fornitori e subfornitori, più tutto un altro correllario di stakeholder, di territorio. Avevo iniziato a fare delle iniziative di coinvolgimento di tutti questi stakeholder. È una mappa degli stakeholder con tutte quelle che sono attività correlate, al di fuori del, voglio dire, proprio come necessità, al di fuori di altri ragionamenti, sia di impatto che di sostenibilità. Quindi questa è una necessità. Una necessità, proprio per, questa parola non mi piace tanto, ma per capirci, per la competitività di impresa. Io direi più per mantenere il livello innovativo dell'impresa. È una necessità quindi di tipo proprio stringente sulla sostenibilità economica dell'impresa. E quindi questo ragionamento sugli stakeholder, sui subfornitori, sui fornitori, sulle catene proprio di fornitura a cui eravamo legate, mi ha portato poi a ragionare sugli impatti e ragionare su il territorio e quanto il territorio incidesse su proprio il business dell'impresa. E quindi da lì ho intuito che, ovviamente rifacendomi anche agli insegnamenti di Olivetti, questo è chiaro, quindi più che un intuito, ho provato ad applicare insegnamenti di grandi che ricordiamo con piacere e ho capito che l'amministrazione pubblica del territorio dove io stavo lavorando, mi faceva la differenza. Perché a seconda di come gestiva gli asili, come gestiva i trasporti pubblici, come gestiva le strade, come gestiva tutta una serie di servizi pubblici e sociali, una pubblica assistenza locale, potrei fare tremila esempi. A seconda di come faceva questo, mi cambiava la possibilità e la qualità di quelli che invece impattavano con l'impresa. E quindi sono arrivata al pubblico per questo motivo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che io ho sentito questa esigenza come manager, in realtà in maniera quasi contemporanea gli amministratori pubblici stanno cominciando a sentire invece questa esigenza per gli stessi motivi, ovviamente contrapposti dall'altra parte. Cioè un territorio felice, un territorio che funziona deve cominciare a auditare gli stakeholder. Tra gli stakeholder ci sono le imprese e quindi hanno cominciato ad avere la necessità e a informarsi e a chiedere circa dei modelli di dialogo più vicini a soggetti che non fossero loro stessi. Faccio un esempio su tutti, giusto per farmi capire. L'amministrazione pubblica ha un documento che si chiama DUP, che è l'abbreviativo di documento unico programmatico. È un documento che tutte le amministrazioni pubbliche fanno perché è di legge e che molte di loro, se non tutte, soffrono come un obbligo normativo abbastanza stringent e abbastanza importante. In alcuni casi può essere anche 500 pagine da scrivere. Assolutamente illegibile per un'impresa e per un cittadino è per chiunque sia al di fuori della macchina amministrativa. Ecco, l'esigenza che comincia avere un'amministrazione pubblica è quella di avere un documento riassuntivo rispetto a documenti tipo quello, che siano fatti con uno schema più, come dire, più sartoriare rispetto alla rigidità di questo strumento qua, che integri però quello strumento perché quello strumento ha un senso e che dia la possibilità di individuare più sinteticamente, più velocemente, i temi rilevanti per poter attuare politiche di partecipazione attiva. Questa è la richiesta prioritaria. Cioè, la richiesta prioritaria è sì mettere in luce la creazione di valore secondo i sei capitali, sì anche fare una valutazione d'impatto e entrare nella dinamica di che cos'è l'impatto, cioè che cos'è un output e che cos'è un outcome. È un outcome, ovvero un impatto, è davvero tanto diverso dal risultato che io ottengo, ma la cosa principale, devo dire la verità, in questo momento è soprattutto quello dell'individuazione, di una sinteticità tale dei temi rilevanti e quindi anche degli impatti di questi temi rilevanti per poterli partecipare. Poterli partecipare. Che poi, io vi dico una cosa per la mia esperienza, è la stessa cosa per cui a un certo punto l'integrative reporting l'ho trovato utilissimo anche nella PMI, perché permetteva di aumentare il livello di partecipazione e di connessione interattività tra le persone. Stai dicendo internamente o anche esternamente con gli altri stakeholder? Con gli altri stakeholder, ma anche internamente tantissimo. Cioè, è una possibilità questa che aumenta sia la connettività interna, cioè la interconnessione, interdipendenza positiva tra i gruppi e le persone all'interno dell'organizzazione, e sia verso l'esterno. Insomma, è un risultato non da poco, perché oggi si parla tantissimo di partecipazione attiva. Sia nell'amministrazione pubblica, tantissimo, sono nati negli ultimi dieci anni gli assessorati alla partecipazione, che quando, insomma, io ero più giovane non c'erano, ma anche dentro l'impresa si comincia a parlare, no, di cittadino dell'impresa, che partecipa alla vita pubblica dell'impresa in quanto immersa in un territorio. Cioè, comincia a essere un tema, per fortuna, rilevante. E allora, per fare questo, ci vogliono modelli, come dicevamo ieri, appunto, alla giornata nazionale delle società Benefit, no? Ci vogliono modelli, e sicuramente la società Benefit può rappresentare un modello ottimale, ma ci vogliono anche degli strumenti, cioè ci vuole anche la categoria degli strumenti. Noi usiamo questo strumento per poter attuare al meglio il modello partecipativo. Grazie, è stato molto interessante, grazie. Dario? No, io ho tante curiosità. Posso, Mario, oppure... Sì, vai, vai, certo. Cambierei, vorrei cambiare un po' il discorso in questo senso, perché così abbiamo capito molto bene quale attività fa, diciamo, la vostra azienda. Vorrei tornare un po' al beneficio comune, cioè, e in particolare alla Benefit, cioè mi chiedo, ok, benissimo, però bellissimo che la tua attività, dico la tua per dire quella della vostra azienda, quindi tutto il gruppo con cui lavori, nasce come attività di per sé di beneficio comune. Allora, sono curioso da sapere, quali sono gli impegni di beneficio comune che la Sara Cirone Group ha nel suo statuto? Perché ne approfittiamo per dire a chi ci ascolta che per essere società a Benefit ci sono, riepiloghiamone, due condizioni molto importanti. Primo, che ci deve essere una duplice finalità, quello dello scopo, chiamiamolo classico, di profitto, e quello scopo invece deve avere delle finalità espresse all'interno dello statuto di beneficio comune. Allora, queste finalità quali sono? E, altra domanda, seconda, sempre della legge, prevede che l'azienda si muova in termini di sostenibilità, trasparenza, e il terzo non lo dimentico sempre, però sono tre principi. Qual è il terzo principio? La sostenibilità, trasparenza e responsabilità. E come la vostra azienda interpreta al suo interno, perché come sappiamo nella valutazione dovrà essere anche verificato la capacità dell'azienda di applicarlo al suo interno, di questi tre principi. Sono state troppe domande, però dai, tu incominciamo. Allora, beneficio comune. Il nostro beneficio comune sono tre, diciamo, tre capitoletti in cui in tutti e tre c'è la parola comunità e territorio. E quindi al centro del nostro beneficio comune c'è l'attenzione al territorio, alla comunità e quindi tutta una serie di attività a vantaggio di questo grande e importante stakeholder che poi si traduce nel proprio ecosistema, diciamo, nell'ecosistema territoriale. Uno è quello di divulgare e rendere sempre più, come dire, di divulgare modelli di impresa sostenibili e anche nuovi modelli giuridici. Noi ci riferiamo, nello specifico non l'abbiamo scritto proprio così, però ci riferiamo alla società Benefit. In realtà anche l'impresa sociale, anche le cooperative sociali possono essere degli ottimi modelli, ma in tutti i casi divulgare modelli sostenibili di impresa. E divulgarli per noi significa fare eventi a tema, fare delle specifiche testimonianze all'università su questo, e ne facciamo veramente tante, ma moltissime altre attività culturali che portano proprio a introdurre questo tema sui territori. Perché sui territori, al di là di tutto, c'è bisogno che se ne parli e che si diano degli esempi. Scusami che ti interrompo, però... Prego. Questa cosa che tu stai dicendo è molto interessante per chi ci ascolta, perché fa comprendere un principio molto sano e interessante, cioè quello dell'autorinforso. Certo. Le imprese e Benefit hanno anche questa capacità, il fatto che si impegnino a fare delle attività, ad esempio a favore del territorio, e queste sono attività di tipo, chiamiamolo così, fra virgolette, gratuito, partecipativo, volontaristiche, accrescono e migliorano, no? Le condizioni di contesto affinché il contesto poi sviluppi in nuove. E questo è interessante perché è un alimentare, alimentare una propria similitudine a vantaggio di tutti. Quindi già dire la società Benefit è già di per sé, per questo una società, come dire, cooperativa. Una volta queste attività le facevano solo i comuni, eh? Esatto, perfetto. Però ti volevo fermare perché secondo me sono punti veramente... Non diamolo per scontato, hai ragione, Dario. No, esatto. Una volta queste attività le facevano le associazioni vicine ai comuni, oppure ai comuni, ma non le imprese. Esatto. Le imprese quando mai facevano cultura, una volta. Invece mettere come beneficio comune che io faccio cultura per la costruzione di una cultura di territorio, su modelli sostenibili di impresa e di territorio, secondo me, come dici tu, non è scontato. Poi gli altri due benefici comuni riguardano, una, anche qui la divulgazione di sistemi e strumenti per la sostenibilità e per l'applicazione della sostenibilità all'interno delle imprese, i di compresa la rendicontazione non finanziaria. Noi di questo ne abbiamo fatto un cavallo di battaglia perché siamo convinti del fatto che se non valuti e non misuri difficilmente potrai migliorare. E che la valutazione e la misurazione sono l'anticamera della possibilità di partecipare. Perché se io devo partecipare, tu mi fai una domanda, ma non sappiamo di cosa stiamo parlando all'interno di un contesto, a che punto siamo, facciamo anche fatica a partecipare. Cioè partecipare vuol dire che se io devo partecipare a un progetto sulla mobilità sostenibile, devo sapere a che punto mi trovo su questo argomento piuttosto che su altri argomenti. Quindi il fatto di promuovere anche questo aspetto qui per noi è chiave. E su questo aspetto qua però c'è nel beneficio comune, dopo se volete lo leggiamo, comunque c'è un aspetto particolare perché a un certo punto dice di promuovere la cultura del territorio sugli aspetti tangibili e intangibili. Quindi viene riportato nel beneficio comune il fatto degli intangibili proprio perché portare la comunità, portare il territorio, portare l'uomo a riflettere sul fatto che esistano i tangibili, ma che esistono i valori intangibili, i capitali intangibili e che questi siano la spina dorsale e la premessa costitutiva della creazione di valore e della sostenibilità, secondo me non è da dare per scontato nemmeno questo. Perché una persona comune non lo sa. Cioè non lo sa che se tu, pure che vuoi fare soldi, cioè inteso come tangibili, prima di tutto devi avere degli intangibili molto ben focalizzati, organizzati, ben valutati, misurati e soprattutto che siano in condivisione nei loro aspetti costitutivi. Il radicamento al territorio, il chilometro zero, la distintività, la fiducia, il senso di responsabilità sono capitali intangibili. Non sono, come qualcuno pensa, chiacchiere. Cioè, voglio dire, radicamento al territorio è un capitale intangibile. E quindi già solo saper riconoscere questa spina dorsale su cui poggia la creazione di valore, secondo me anche questo è un forte contributo a questo. Ultimo, ma non meno importante, la costruzione di progetti partecipati pubblico-privato è anti-no-profit. Cioè, noi ci siamo posti come obiettivo quello di lavorare in prima persona su creare all'interno dei territori dei complessi di ragionamento e di dialogo, dei network, delle community di vicinanza al territorio e ai patrimoni territoriali. Ovvero, noi siamo profondamente convinti che se c'è una possibilità, quella derivi dalla forte vicinanza alle comunità del territorio e dai capitali intangibili del territorio e quindi altrimenti detti capitali territoriali. Questi capitali territoriali, ovviamente, sono la base, anche qui ritorna, la base della ricchezza. Se noi vogliamo creare ricchezza sociale, bisogna creare, dal nostro punto di vista, dei progetti partecipati pubblico-privato. Perché se io sono un privato che anche crea ricchezza, ma non sono immerso nella comunità, faccio fatica a creare la replicabilità, la trasmissione, la cultura e quindi ritorna sempre il tema della cultura. La cultura è all'attenzione massima. Io, Alda, ti voglio nuovamente interrompere e poi dopo non rompo più. Ma no, chi vuole. Altro punto, perché oggetto di discussione e di curiosità di moltissimi è ok, duplice finalità, profitto e beneficio comune. Ok? Ti faccio una domanda così sparata a te. Fra queste due finalità, secondo te, secondo te, e rispetto a quello che hai detto, se è una delle due che assume priorità con maggiore valore, questo è importante perché potrebbe non risultare chiaro e non tutti potrebbero avere la stessa opinione in merito. Io ho la mia, poi te la dico, perché l'ho anche scritta recentemente, ma vorrei sapere tu cosa ne pensi. Ma è vero, tu fai questa domanda a persona sbagliata, perché io mi sono licenziata da un posto e ho aperto questa società Benefit. Per me il beneficio comune ha un posto importantissimo, ha un posto fondamentale. Si chiama Benefit al primo posto. E quindi forse ci sono altre persone che possono rispondere in maniera diversa o perché hanno fatto una trasformazione o perché hanno un business magari un po' diverso, un po' più sulla parte produttiva, non lo so. Devo dire che tra i miei clienti trovo veramente delle persone che interpretano un po' diversamente da noi il beneficio comune. Se lo chiedi a me, quello che ti dico è che il nostro beneficio comune è parte integrante del nostro business e il nostro business è parte integrante del beneficio comune e che non sono disgiunti l'uno dall'altro ma che sono praticamente in una stretta collaborazione come il braccio con la testa e con le gambe. Quindi sono un tutt'uno. Questo perché noi facciamo come beneficio comune cultura e facciamo anche tantissimi progetti sociali, anche con Enti No Profit. Ci spendiamo veramente moltissimo su questo. è vero anche che tutto questo poi è anche occasione di fare dei lavori che rientrano anche, rientrano anche, soprattutto sul nostro invece livello di business. Quindi... Qui ci sarebbe un dialogo molto aperto, diciamo... Noi siamo un caso un po' particolare. Te la sei cavata egregiamente, non sei particolare. Sarei molto interessato ad approfondire magari in altra. Mari, poi andiamo verso la... Beh, c'è la nostra rendicontazione. Allora, se sei interessato, è uscita la nostra rendicontazione dove noi raccontiamo tutte le cose di beneficio comune che facciamo e abbiamo fatto il nostro primo Integrate Reporting perché l'anno precedente non era stato possibile. Quindi lì ci sono scritte un po' di cose che facciamo. Non so se ti avevo parlato per esempio del road show per il bene comune che hanno fatto in giro per la Romagna, questo road show itinerante per portare l'economio francesco in tutte le città della Romagna. Questo è un esempio. Ma lo troverai nella rendicontazione. Bene, bene. Ok. Grazie. Dicevo Mari, perché stiamo verso la fine. Dai, prego. Ok. Allora, giusto, sì, veramente dobbiamo anche chiudere perché sennò andiamo troppo in là. Però io l'ho trovato, Sara, decisamente molto molto interessante. Starei qui tantissimo tempo ad ascoltarti e a farti domande. Quindi diciamo che l'invito di Dario di magari coinvolgerti anche all'università mi sembra molto molto opportuno. Magari anche se non sarà un giorno in presenza sarà anche online. Ormai stiamo facendo tantissimo online. Ormai. E credo che ai ragazzi interesserebbe moltissimo. Sì, sì. Tra l'altro vorrei farvi conoscere Andrea Ragazzini che insieme a me appunto si occupa di questa materia che fa diverse testimonianze con ragazzi giovani in università e devo dire che rimangono veramente molto contenti i ragazzi. Perché i ragazzi, la cosa che ci dicono sia a me che a lui è che non avevano capito, dallo studio, non avevano capito l'applicabilità di queste cose. Cioè improvvisamente gli si apre uno scenario applicativo. Senti, io ho solo una domanda, proprio però brevissima, con una risposta brevissima in modo che poi dopo chiudiamo. Però, diciamo, io immagino che tu abbia un vantaggio enorme, almeno io lo immagino enorme, che è quello che sei posizionato in un territorio speciale, che è quello dell'Emilia-Romagna. Io sono di origine bolognese, non abito a Bologna ormai da tantissimi anni, ho girato praticamente quasi metà Italia, vivendo un po' a destra e un po' a sinistra. E devo dire che la situazione che ho lasciato tanti anni fa, però penso che non sia che migliorata, per quanto l'Italia non stia migliorando granché in generale, ma insomma immagino che abbia continuato a meno mantenere gli standard che c'erano quando vivevo io. Quindi tu hai un grande privilegio e una grande fortuna. E se tu, come immagino tu stia pensando di fare, volessi esportare questo modello, diciamo, di collaborazione, io direi di più quello che dice Dario, non è tanto una collaborazione, è proprio un'opera condivisa, è una forma di cooperazione, cioè creare una cosa che non c'è. E quindi creare un'opera comune, con il territorio, coinvolgendo la parte pubblica, le parti no profit e le imprese, mi immagino, se tu lo vuoi esportare verso altre regioni, quanto ritieni sia esportabile, quanto invece magari un contesto, un ecosistema come quello dell'Emilia-Romagna può essere un grosso vantaggio, ma poi si può rivelare una grossa difficoltà quando non lo trovi così fuori. L'Emilia-Romagna ha una cosa bellissima, per cui io dopo l'università sono rimasta, perché io sono venuta per fare l'università, e poi che è la gioia di vivere. E poi l'altra cosa che ha, oltre che la gioia di vivere, è il darsi da fare a tutti i costi per ciò che si vuole, l'autoimprenditorialità, l'imprenditorialità. Non ti cade la manna dal cielo, no? Ecco la famosa... E queste due cose ovviamente rendono possibili alcune cose che io stesso sono stato oggetto di, come dire, di sperimentazioni in questo, hanno reso possibili alcune cose per me che probabilmente in un altro posto non potevano essere. E questo perché è una terra della possibilità. L'Emilia-Romagna è una terra che dà una possibilità a tutti, senza distinzione di sesso, razza o altre cose. Ora io sogno questo anche per altri territori italiani, soprattutto per il mio territorio di origine, che è l'Abruzzo, che in realtà assolutamente possono importare questo modello, ovviamente acclimatato a quello che è la peculiarità dei territori, ma assolutamente lo possono importare perché secondo me è congenito nell'uomo la gioia di vivere e il lavoro. Sono congeniti nell'uomo, soprattutto in alcuni territori poi, figurati, andiamo a nozze. E quindi assolutamente io voglio esportare questo modello, ci sto già lavorando e sono fiduciosa del fatto che si può fare. Ovviamente dovrò superare, che Dio ci aiuti, perché ovviamente le sfide hanno bisogno anche di un pizzico di aiuto divino, dovrò superare quelli che sono gli ostacoli più che altro semplicemente di tipo di pregiudizio, di pregiudizio, cioè ma qua non si può fare, ma abbiamo sempre fatto così, ma questa donna, perché poi c'è anche quello un po' in Italia ancora, che se ne voglia dire. Ecco, dobbiamo superare qualche piccolo pregiudizio, che forse il Covid, secondo me, ci ha dato più possibilità, spero di riuscire a sapere superare. Se superiamo questo piccolo cosa che rende le persone un po', sai, o con la puzza sotto il naso, oppure autoreferenziali, tutti quei piccoli difetti che l'essere umano può avere, se superiamo questo, secondo me, l'Italia, un po' girato, insomma, girata abbastanza anche per lavoro, secondo me l'Italia ha dei tanti territori virtuosi, non solo l'Emilia-Romagna, che comunque devo ritenere veramente l'eccellenza, ha tanti territori virtuosi che secondo me possono andare in questa direzione. E questa è una sfida che io ho assunto con la Benefit, ho assunto anche personalmente, e che intendo portare avanti. Sara, si sente già da come lo dici, quindi non c'è dubbio che tu intendi portarla avanti. Quindi, io sono felicissima perché mi fa un enorme piacere sentirlo. E guarda, io non posso che augurarti il meglio, che tu possi riuscirci e che le cose veramente possono risultare più inaspettatamente, più facili di quanto a volte possono sembrare. Però sento che hai tutta l'energia e la forza, insomma, per poterlo fare, quindi mi fa davvero molto, molto piacere. Ti racconto solo questa, per farti capire perché, così, quando io ero piccola, nelle piazze abruzzesi, quando si facevano le fiere quelle d'estate, le fiere, senta me, le sagre, le sagre quelle estive, le feste patronali, veniva sempre Raul Casadei e io, quando ero piccola, invece di conoscere la canzone tipica, conoscevo Romagna mia, Romagna in fiore e la cantavo. Perché Raul Casadei era in tutte le piazze abruzzesi a raccontare la sua storia romagnola e le sue canzoni. Ora, io dico questo, se la gioia dei romagnoli, Emiliano Romagnoli, insomma, è riuscita a portare Romagna mia a dei bambini, come ero io bambina, oggi grande, a cantare una canzone che dice Romagna mia, Romagna in fiore, cioè, io penso che potremmo fare anche il resto. Fantastica. Ok, grazie. Daria, io direi che possiamo chiudere qui, quindi Sara, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Do la parola a Daria per salutarti, ti ringrazio tantissimo e spero di poterci rivedere prestissimo anche fisicamente. Grazie, è stato veramente molto molto interessante. Daria? Ok, niente, io ti ringrazio, Sara, ringrazio anche Marinella, molto molto istruttivo anche per chi ci ascolterà e anche io mi auguro che sia l'inizio di una bella relazione anche con il Complexity, mi auguro Marinella, e con il suo benefit in modo che... Certo, tutti insieme. Insomma, bisogna aiutarla il più possibile perché... Ok, grazie Sara, grazie tantissimo. Grazie. Buonasera.